Alfonso Signorini Alfonso Signorini Alfonso Signorini Mia madre era casalinga e mio padre impiegato, nessuno che potesse facilitarmi Ma avevo il pallino della musica Studiavo, suonavo e leggevo le recensioni La mattina andavo in piazza Cavour e salivo tutti i piani del Palazzo dei Giornali, il giorno, la stampa, la notte, qualche volta scrivevo delle brevi, ma non c'era futuro Allora, mi proposi come corrispondente alla provincia, mandavo brevi critiche sui concerti della Scala e dei festival 7000 lire a pezzo Una carriera poi decollata, che oggi gli sta riservando grandi soddisfazioni come direttore del settimanale chi è opinionista in diversi programmi Mediaset All'interno di tutto questo, però, è arrivata anche la preoccupazione di una diagnosi inaspettata, quella che qualche anno fa gli ha fatto conoscere il Volto della leucemia, il 23 dicembre ero in diretta a Calisfera, c'erano ospiti Cristian Vessica e Sabrina Ferilli e non smettevo di sudare A mezzanotte avevo 40 di febbre Terminai la serata e andai al pronto soccorso del San Raffaele Mi fecero gli esami, mi diedero un antipiretico e mi mandarono a casa La mattina dopo, vigilia di Natale, mi chiamarono, lei ha una leucemia mieloide Non si muova, ci vediamo il 27 per iniziare le cure